Oggi è una giornata di grande soddisfazione per l'Arma dei Carabinieri, per la cittadinanza di Busso Assizio e il raggiungimento di un obiettivo importantissimo che è quello di dare alla cittadinanza di Busso e alla compagnia Carabinieri una sede adeguata che sia confacente a quelli che sono i compiti sempre impegnativi che l'Arma dei Carabinieri svolge sul territorio e soprattutto creare anche un ambiente di assoluta accoglienza per chi per ragioni diverse viene a contatto con noi. E proprio per questo l'inaugurazione della caserma di Busso Assizio rappresenta tanto per tutti per i tre Carabinieri caduti l'anno scorso e per gli oltre 2000 feriti o contusi per i parenti e gli amici di chi ha versato il sangue in servizio, per la gente comune che oggi non ha voluto mancare. Anche la partecipazione di popolo che c'è in occasione dell'inaugurazione della caserma dei Carabinieri testimonia questo affetto, questa simpatia e questo afflato che c'è tra l'istituzione e l'Arma e la gente. E poi per quella bandiera, per i bambini in festa, per l'uniforme nera, per la fiamma sul cappello, per quel sapiente miscuglio di disciplina e umanità, empatia e senso dello Stato che da sempre caratterizza l'Arma e che Giovanni Nistri, comandante generale dei Carabinieri, riassume al meglio definendo la giornata odierna una lezione di buona cittadinanza. Nella relazione di Emanuele Antonelli, sindaco e presidente della provincia, la sintesi di una battaglia durata vent'anni. Erano vent'anni che si aspettava questa inaugurazione? Sì, vent'anni, vent'anni non sono pochi, però devo dire che oggi dobbiamo essere orgogliosi dell'inaugurazione che abbiamo fatto senza guardare al passato. Abbiamo lavorato tanto, ho avuto un'amministrazione che ha lavorato tantissimo, ma ho avuto anche l'appoggio, come ho detto, di persone qualificate. Unito e lungo, complicato, che il primo cittadino ha affrontato di petto, complici le professionalità che lo hanno affiancato qui, sul territorio. Voglio sottolineare il gran lavoro che è stato fatto dall'amministrazione comunale, che è il segnale dell'attenzione di tutte le amministrazioni della provincia verso le esigenze delle forze di polizia. Un grazie speciale, poi, a un alleato trovato a Roma, nel centro nevralgico di una politica spesso lontana dalle specificità locali, ma che in quei giorni decisivi vide nell'allora sottosegretario Candiani un interlocutore risoluto e risolutivo. Ho preso subito la palla al balzo, sono venuto a busto, come dovrebbe fare qualsiasi responsabile della politica nazionale, mi sono messo al tavolo col sindaco e l'abbiamo affrontata con buona volontà. Chiamando tutti i soggetti istituzionali a raccolta, che fosse per una questione tecnica o per una questione di decisione o di scelta da prendere, tutto è stato deciso. Ora, in questi 4.000 m2 distribuiti su quattro piani, più uno interrato, i carabinieri al comando del Maggiore D'Aleo potranno usufruire di spazi moderni, adeguati, funzionali, luminosi. Significativi, poi, gli uffici e le soluzioni pensate per la collettività, come la sala giochi per i più piccoli e una stanza che garantisca la giusta privacy alle donne vittime di violenza, concepita in sinergia con Sor Optimist, una mano tesa verso chi, per vergogna o per paura, preferisce non denunciare i soprusi. I dati sono sempre in parte falsati da un dato sommerso, un grandissimo sommerso di donne che non hanno il coraggio di denunciare, anche perché molto spesso le violenze vengono consumate all'interno delle mura domestiche, quindi c'è una sorta di reticenza e di omertà nel non voler denunciare. Sicuramente dare ogni tipo di sostegno, supporto e fiducia, anche a cominciare da un ambiente accogliente e confortevole, può essere un aiuto. Testimonia della giornata Emanuela Piantadosi, figlia di un carabiniere caduto in servizio 40 anni fa. Io sono la figlia del maresciallo Stefano Piantadosi, ucciso nell'80 a opera. Come mio padre, tante sono state in questi anni le vittime del dovere che hanno sacrificato la loro vita per le istituzioni. Questa caserma è un simbolo, rappresenta l'arma in un territorio importante ed è un riferimento per tutti i cittadini, così come sono i carabinieri da sempre. Salutata da un sole radioso e da un monumento donato dagli ufficiali in congedo, la caserma di Via Bellini si presenta così, imponente, rassicurante e curata nel dettaglio, perché i carabinieri, per completarla, ci hanno lavorato personalmente nelle ore fuori servizio.